Pila Puglia, Pila Puglia, Pippi, Pila Puglia Sempre dal Teatro Sociale di Fasano, adesso parliamo di turismo lo facciamo con la nostra ospite, cara Germana, abbiamo qui la signora Cinzia Capozza che è presidente regionale delle strutture extra alberghiere di Puglia una struttura indipendente dalle grandi confederazioni e in particolare poi di Fasano con 2B in Fasano in pratica lei rappresenta tutte quelle strutture che non sono i resort delle 5 stere ma sono i B&B, che altro? Case e vacanze, anche locazioni turistiche, affittacamere quindi tutti coloro che non rappresentano il turismo a livello un po' più artigianale ma ovviamente in termini sempre di legalità e di professionalità Certo, perché qualcuno pensa che il B&B non si paga non si paga nel senso che non si fanno ricevuta assolutamente no invece non è così non è così ma non è mai stato così vabbè, forse all'inizio un po' però adesso almeno a Fasano è tutto assolutamente tutto trasparente professionalizzato, legalizzato e sotto controllo perché magari ci può sempre essere qualche furbetto ma il ragionamento congiunto tra le istituzioni, i privati e anche le associazioni garantisce esattamente il controllo territoriale non c'è nessuna voglia di punire o sancire o mandar via ovviamente è facile ed è necessario mettersi in regola e cercare di rappresentare il territorio nella maniera più omogenea Allora, questo tipo di turismo interessa, coinvolge più turisti italiani o stranieri? Bah, fatta nel 2021 questa domanda è audace a parte gli ultimi 12 mesi prevalentemente c'è un ottimo mix c'è sempre stato storicamente un ottimo mix nella zona di Fasano abbiamo davvero tantissimi stranieri e anche davvero oltreoceano possiamo ringraziare sicuramente il livello di preparazione di eccellenza delle accoglienze perché comunque delle strutture recettive perché questo garantisce l'accoglienza sia del prossimità che ci ha caratterizzato ovviamente nel 2020 del nazionale e del non domestico quindi dell'internazionale Che rapporti ci sono con le grandi strutture esistenti in questo territorio? Ottimi questo è molto importante, la ringrazio per la domanda non l'ho fatta apposta perché sicuramente parliamo subito di due elementi fondamentali il turismo è fatto di passione e di legalità e su questo non ci piove e comunque entrambi sottendono la tutela del territorio e nonché la reputation quindi l'immagine del territorio spenduta anche all'estero spesa anche all'estero e diffusa anche all'estero quindi inevitabilmente laddove si può lavorare in sinergia a nome e in tutela del territorio inevitabilmente si deve collaborare non c'è lo scontro non c'è mai stato uno scontro tra l'alberghiero e l'extraberghiero c'è la volontà di far sì che ciò che non sia riconosciuto venga legalizzato o venga comunque messo a norma e poi c'è comunque in assoluto la tendenza a lavorare in nome di un unico territorio di un'unica immagine come quella della terra di Fasano o in termini regionali della regione Puglia io volevo chiederle perché scegliere e preferire le strutture extralberghiere? e questo lo devo dire però perché il turismo esperienziale è incredibilmente più storico all'interno della struttura extralberghiera dunque già dal 2019 abbiamo notato che il turista è resiliente e autonomo quindi è stato tanto bravo da gestire un po' sulla falsariga della scuola delle OTA dei grandi portali a gestirsi la vacanza e organizzarsela per conto suo quello che è venuto ancora più fuori diciamo che è emerso maggiormente è la capacità di andare a trovare quel messaggio preciso del territorio che non è la semplice orecchietta e cime di rapa è proprio la capacità di vivere il territorio attraverso i protagonisti che possono sempre nelle misure che abbiamo descritto prima ospitare quasi in casa quasi in casa e quindi sì questo è il pregio del turismo chiamato più artigianale poi ci sono devo ammettere che il territorio fasanese è caratterizzato da grandi strutture che comunque garantiscono questa esperienza questa che si chiama experience però meglio se preferite l'extraberghiera sicuramente io molto spesso usufruisco dei B&B scelgo i B&B e devo dire che veramente resta sempre una delle mie scelte preferite la ringrazio in nome di tutti io invece no ma no sto scherzando però mi interessa capire se il diciamo chiamiamola ormai forse suona pure un po' troppo adoperata però la pugliesità viene rispettata ugualmente sia nelle grandi che nelle piccole strutture oppure meglio non lo so allora torniamo al discorso di prima l'immagine del territorio quindi la pugliesità e poi abbiamo anche la Valle d'Itria la Fasanesità chiamiamola così quindi noi rappresentiamo questo territorio rappresenta una nicchia quindi la pugliesità e l'autenticità vengono assolutamente garantite ma sono garantite anche dalla professionalità quindi torniamo comunque al discorso iniziale a parte lo spirito la capacità di individuare che se garantisci pugliesità ottieni risultati quindi ospiti e traffico di turisti l'ospite può diventare anche amico poi conoscenza inevitabilmente inevitabilmente grazie Cinzia grazie a voi per l'opportunità ok a ritornarci d'accordo grazie 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 a voi